dalla lettera di san paolo apostolo a tito carissimo ricorda a tutti di essere sottomessi alle autorità che governano di obbedire di essere pronti per ogni opera buona di non parlare male di nessuno di evitare le liti di essere mansueti mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini anche noi un tempo eravamo insensati disobbedienti corrotti schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri vivendo nella malvagità e nell'invidia odiosi e odiandoci a vicenda ma quando apparvero la bontà di dio salvatore nostro e il suo amore per gli uomini egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute ma per la sua misericordia con un'acqua che rigenera e rinnova nello spirito santo che dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di gesù cristo salvatore nostro affinché giustificati per la sua grazia diventassimo nella speranza eredi della vita eterna